Allora, iniziamo stasera sempre dal testo che vi farò mettere a disposizione come la settimana scorsa. Però prima volevo raccontarvi di un regalo che ho ricevuto da YouTube. Sapete che YouTube ogni tanto ci fa dei regali. Non siamo ancora arrivati a un milione di visualizzazioni, non è quel tipo di regalo che YouTube ci fa. Nel senso che mi ha consigliato una piccolissima lezione di un rabbino in Israele, che è il figlio dell'ex rabbino capo di Israele, Rav Ovadia Yosef, e ha raccontato una cosa incredibile. Ed era proprio legato alla lezione della settimana scorsa, come il quale abbiamo concluso. E niente, prima di iniziare la lezione vi racconto un pochino questa storia, una storia molto interessante. Prima però vi faccio un brevissimo riassunto dell'argomento che abbiamo toccato settimana scorsa. Il Tania, abbiamo letto, parlava del fatto che coloro che sanno accettare qualsiasi tipo di umiliazione con gioia, che è la cosa più difficile che un essere umano può, diciamo, accettare, inizia a splendere, inizia a illuminare come il sole nel suo massimo splendore. Così abbiamo letto nel Tania e avevo spiegato il motivo per il quale una persona che accetta qualsiasi tipo di imbarazzo senza assolutamente mettersi in discussione o senza addirittura ribattere o senza arrabbiarsi, che è la cosa peggiore. Allora viene considerato da Hashem un suo amico, un suo amato. Quindi la storia che vi voglio raccontare è una storia che è successa 25 anni fa. 25 anni fa era ancora vivo un grandissimo kabbalista in Israele, si chiamava Rav Yitzhak Kaduri. Credo sia stato il kabbalista, diciamo, più famoso della nostra generazione. Vi faccio vedere una sua fotografia, perché ho preparato anche questo. Se riesco, vi ho detto l'altra volta che non ero bravissimo ancora con questo, però ci provo. Eccola qua, un attimino solo. Vediamo se riesco. Datemi un attimo di pazienza, così quando si sa di chi si parla viene più facile. Ok, questo è Rav Yitzhak Kaduri. Negli ultimi anni della sua vita ha avuto una lunga vita, ha vissuto 106 anni e vi racconterò anche come mai ha vissuto 106 anni. Questo è Rav Yitzhak Kaduri. La storia è che c'era un intervento alla radio in Israele, c'è una radio che all'uscita di Shabbat dedica un paio di ore allo studio della Torah, quindi ci sono interventi legati allo studio della Torah. È una radio non religiosa, però, diciamo, dedica questo tempo ogni mozza e Shabbat. Al telefono la gente chiama, fa domande su Torah e rabbini rispondono e a un certo punto è successo che un personaggio ha telefonato, ha iniziato a dire delle cose su Rav Yitzhak Kaduri che non si potevano sentire. Ha iniziato ad insultarlo e a dire cose di lui che erano inascoltabili. Chi racconta questa storia è il figlio del ex rabbino capo di Israele. Il suo nome è Rav Davide Yossef. Lui racconta che ascoltava anche lui in quel momento la radio, perché all'uscita di Shabbat si torna a casa, si mette un po' in ordine la casa, si lavano i piatti e c'è un programma che parla di ebraismo, fa sempre piacere, scaldà il cuore, quindi ascoltava anche lui. Quando ha sentito queste parole, queste frasi e nessuno lo fermava, nessuno interveniva, gli si è gelato il sangue. Passa qualche minuto, suona il telefono in casa, ai tempi non c'erano i cellulari, va al telefono, chi è dall'altra parte del telefono è il figlio di Rav Yitzhak Kaduri. Lì dice guarda è successa una cosa terribile, dobbiamo intervenire. Dice di che cosa stai parlando? Dell'intervento alla radio di questa persona poco intelligente. Dice esattamente, hai sentito anche tu? Dice sì, ho sentito anch'io. Dice va bene, andiamo da tuo papà. Suo padre era il rabbino capo di Israele e deve fare una lettera urgentissima con il quale lui si oppone a qualsiasi tipo di umiliazione verso un rabbino in Eretz Israel, perché se si sta zitti, domani può succedere di nuovo e la cosa è contro l'Alakha. Bisogna combattere per il rispetto della Torah e i rabbanim, i grandi rabbanim, loro sono coloro che rappresentano la Torah, quindi umiliare un grande Rav, un grande Mecubal alla radio è uguale, sta per umiliare la Torah in pubblico. Ed è una cosa che non ci si può permettere. Quindi sia il figlio del rabbino capo di Israele, che il figlio del grande cabalista, che era stato appena umiliato alla radio in pubblico, si sono dati subito appuntamento per andare a casa del padre, del rabbino capo di Israele. Però prima hanno detto, ha detto il figlio del rabbino capo di Israele, ha detto al figlio del cabalista, colui che è stato umiliato, ha detto forse prima di andare da mio papà, che ne viene fuori una storia, ne parleranno i giornali, ne parleranno le televisioni. Magari andiamo prima a raccontare a tuo papà e vediamo che cosa dice. Vanno nella Yeshiva a Yerushalayim, tutto questo succede a Yerushalayim, vanno nella Yeshiva, la Yeshiva dei Mecubalim, e lui è il capo, il Rosh Hashiva dei Mecubalim. Arrivano e vedono che ci sono 15 persone seduti a tavolo con lui, che stanno studiando cabalà. Si sono seduti, non volevano assolutamente disturbare, e hanno aspettato che la lezione arrivasse alla conclusione. A un certo punto il Ravitzhak Kaduri vede suo figlio e vede il figlio del rabbino capo di Israele e dice, cosa è successo, come mai siete qui? Ha capito che non sono qui per la lezione, hanno iniziato a raccontargli che cosa è successo. E stranamente Ravitzhak Kaduri sorride e gli dice, posso sapere che cosa ha detto di me? E nessuno di due voleva ripetere queste parole. Dice, no, 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 ci tengo, ci tengo, fatemi questo favore, ditemi che cosa ha detto di me? Dice, il figlio, papà, io sono tuo figlio, devo per norme, regola della Torah rispettare, non posso far uscire dalla bocca, sei mio papà, non posso far uscire dalla bocca quello che quell'idiota lì ha detto. Allora il Rav Kaduri chiede all'altro rabbino, al giovane figlio del rabbino capo di Israele, dice, va bene, allora dimmi tu che cosa ha detto. Dice, anch'io vorrei evitare di aprire la bocca e sporcarla con quello che ha detto. Dice, ma ti chiedo per favore, dimmi che cosa ha detto. E ha capito che doveva dire, altrimenti non avrebbe dato il consenso per andare a fare quello che era giusto fare. Succede che Ravitzhak Kaduri inizia a sentire quello che alla radio è stato detto di lui e sorride e dice, ma tutto qui quello che ha detto, niente di più, qualcosa di più, qualcosa di più grave, qualcosa di più importante. Ha detto, sì, ha detto anche questo, e anche questo, e anche questo. Ogni cosa che diceva, il viso di Rav Kaduri iniziava a splendere sempre di più e a sorridere sempre di più. E si è messo a ridere, a ridere, a ridere, a ridere. E i due erano spaventati, hanno detto, forse l'età, forse non ha capito quello che stiamo dicendo. Forse sta cercando un attimino di nascondere la sua rabbia. Niente. Dice, chas ve shalom, mai e poi mai che andiate a disturbare il rabbino capo di Israele per delle innezze simili. Mai e poi mai. Va bene così e sono molto felice. E gli dice, per favore, per favore, se ha detto qualcos'altro, se ha detto qualcos'altro, ditemi che cosa ha detto. In altre parole, raccontavano che questo tzaddik più dicevano cose negative su di lui e più a lui faceva piacere. Ed è una cosa che non si può capire. Si chiama, nella Kabbalah si chiama il lavoro delle midot, il lavoro delle mie attitudini. Io ho delle attitudini e devo lavorarci su, devo pulirle, devo raffinarle, devo elevarle. Io non ci arrivo. Quando mi fanno arrabbiare, quando mi insultano, quando mi umiliano, quando mi mettono in imbarazzo, io sono il primo a scattare. Invece, itzaddikim, tutt'altro. Non solo che non si era arrabbiato, non solo che non si è sentito a disagio, era felice. Come faccio a capire questa cosa che era felice? Perché la settimana scorsa ho spiegato che quando una persona viene messa in imbarazzo, è un messaggio da Hashem che gli dice, la tua teshuva mi hai inviato una richiesta diretta a me, dice Hashem, con una richiesta di cancellare i miei, i tuoi peccati, e io ho accettato questa richiesta. Quando io mi metto in imbarazzo, quando io vengo messo in imbarazzo, quando vengo umiliato, allora è il messaggio che Hashem mi manda che la teshuva è stata accettata, che la tua richiesta è stata accolta. Infatti, come ho spiegato settimana scorsa, Hashem dà come messaggio di accettazione della teshuva la sensazione che lui stesso, Hashem stesso, ha avuto quando la persona ha deciso di peccare. Quindi una volta che è stato riallineato l'onore di Hashem con l'onore della persona, in quel momento la teshuva è stata accettata. Quindi io posso solo capire da questa storia quanto la gioia di Rav Kaduri era una gioia del fatto che abbia ricevuto da Hashem il messaggio sei salito di livello. E quindi continuavo a dire, ha detto solo questo, ha detto ancora qualcos'altro, ha detto solo questo, c'è qualcosa in più. Ogni cosa negativa che qualcuno possa aver detto di lui era un messaggio dal cielo che lui non è allo stesso, non è allo livello di prima, ma è salito di livello. Allora. L'argomento che stiamo trattando in queste settimane è l'argomento della gioia, l'argomento di come non perdere il controllo, di come non farsi domande e di come imparare la lingua di Hashem. Imparando la lingua di Hashem, iniziando a capire, a captare la lingua di Hashem, significa riuscire ad avvicinarsi ad Hashem gradino per gradino. C'è un esempio che fanno i chassidim del Bal Shem Tov, hanno dato questo esempio, di un contadino che stava sudando, stava lavorando la terra e a un certo punto passa, proprio dove lui sta lavorando, passa niente meno che il re. Il re arriva in campagna con tutta la corte, con i cavalli davanti, con i cavalli dietro, con i ministri, con i soldati e scende il re per vedere la campagna dalla sua carrozza. Il contadino che era sudato, sporco, stanco, vede questo re che è tutto pulito, tutto splendente, col mantello, con l'oro, con l'argento e ha fatto un commento che sicuramente al re non devi fare. Perché è stato un commento diciamo abbastanza infelice. Succede che i ministri sentono questa frase e dicono al re non puoi andare avanti, non puoi far finta di non aver sentito, questa persona merita la giusta punizione. Ha usato la bocca contro il nostro re, si è permesso di insultare, si è permesso di fare dei commenti contro il nostro sovrano. È l'istituzione che lo chiede. Non possiamo andare via senza dare a questa persona e la giusta punizione. E il re dice non possiamo punire qualcuno che non ha idea di che cosa un re sia. Lui è un contadino, non ha mai visto il re, non ha mai sentito parlare del re. Come fai a punire qualcuno per qualcosa che non capisce? Allora i ministri chiedono qualcosa però dobbiamo fare, che cosa facciamo? Dice molto semplice, portatelo a palazzo. Dice come portiamolo a palazzo? Sì, sì, portatelo a palazzo. Vestitelo, lavatelo, pulitelo e portatelo a palazzo. L'hanno portato a palazzo e lui non capiva che cos'era questo palazzo così bello, così curato, con i marmi, con i tendaggi preziosi, con tutti questi affreschi e piano piano ha iniziato a spiegarli. Questo è il palazzo del re. E poi vedeva della gente che andava e dice questi sono i ministri del re e altra gente questi sono i servitori del re, questi sono i sudditi del re. E più si avvicinava verso la sala del trono e più iniziava a capire l'errore che aveva fatto. E quando è arrivato alla sala del trono e ha visto il trono del re con la regina e con tutti i sudditi che si inchinavano al re e che tremavano di paura, se il re solo fa un cenno, la vita e la morte di questa persona è proprio nella mano, nel palmo della mano del re. E quindi ha iniziato a tremare, ha iniziato a capire l'errore che ha fatto. Quando è arrivato finalmente al cospetto del re, i ministri dicono adesso che l'abbiamo portato a palazzo, come lo puniamo? Il re ha detto no, 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 non bisogna punirlo assolutamente. È già stato punito. Il fatto che lui abbia capito l'errore che ha fatto è già la sua punizione. Si è permesso di parlare del re in questo modo perché non sapeva chi fosse re. Ma una volta che ha capito che cosa veramente è il re e si è avvicinato e ha potuto con la sua mente semplice arrivare a veramente capire di cosa sia il re. Questo già è la sua punizione. Stamattina leggevo nel Humash, perché ogni giorno abbiamo un brano di Humash da leggere, che siamo arrivati all'ultimo capitolo della storia dei nostri avi, Avram, Itzhak e Yaakov. La parasha di Vayakhì, la parasha in cui si racconta il momento in cui Yaakov chiama a raccolta i suoi figli per benedirli, per salutarli, perché lui deve lasciare questo mondo. E la Torah racconta che quando il re Yosef si è avvicinato a suo padre, il padre si è abbassato, abbassato il capo, ha chinato il capo. E i commentatori dicono non per Yosef, in quel momento lì, più avanti sì, ma non in quel momento, ma ha fatto un cenno di rispetto verso Hashem, verso la Shekinah, la presenza divina, che si trovava sulla testa del letto. E i Chachamim imparano da lì, nel Talmud, che quando una persona è malata, chi è che viene a stare con lui, è Dio in persona. La presenza divina sta nel letto, insieme, sopra il letto, c'è scritto, sopra il letto dove si trova il malato. Da qui imparano i nostri saggi, che una delle mitzvot più importanti è quella di andare a visitare i malati. Perché chi va a visitare il malato toglie dal malato un sessantesimo della sua malattia. Perché quando una persona entra e lo saluta e gli chiede come sta e si preoccupa per lui, il peso della malattia viene suddiviso e quindi non cade tutto sul malato, ma chi viene a visitarlo prende dal malato un pochino della sua preoccupazione, un pochino del peso della malattia e quindi li toglie un po' della malattia. Ma i Chachamim ci insegnano che oltre a essere una mitzvah importantissima, come abbiamo visto che Hashem stesso è andato a visitare Avraham il terzo giorno dopo che ha fatto la milà perché era sofferente, ed è una grandissima mitzvah. Oltre questo c'è anche l'insegnamento di come ci si avvicina, di come ci si presenta a un malato. Dato che noi sappiamo adesso, avendo studiato questo, che quando si va a visitare un malato c'è anche la presenza divina sopra il letto, bisogna entrare con il giusto rispetto. Il malato stesso, in che situazione lui si trova? Si trova in una situazione in cui lui soffre, in cui lui non può fare quello che vorrebbe fare, fare quello che gli altri fanno. E quindi assurdamente potrebbe dire in queste situazioni, Hashem mi ha abbandonato. E invece la Torah ci insegna che Hashem non solo non ha abbandonato, ma Hashem viene a stare insieme con il malato. Quindi quando una persona sente un attimino di sofferenza, sente un attimino la difficoltà, sente un attimino il peso della vita, il peso della vita non è altro che la prova che Hashem è più vicino a te di qualsiasi altro momento. Sembra strano, ma stiamo dicendo quello che la Torah ci sta testimoniando. Quindi è la vera realtà di tutti i giorni. Quando io sto benissimo non è una prova che Hashem stia con me e quando io sono un attimo messo in discussione, quando sono un attimino in difficoltà, vuol dire che Akadosh Baruch Hu sta vicino a me, in due parole. C'è la famosa maledizione che Dio ha dato al serpente. Il serpente è colui che ha portato il peccato nel mondo, colui che ha portato la morte nel mondo. E la Torah racconta che oltre la terra, quella che è stata maledetta, ad essere stata maledetta, oltre Adamo ed Eva, Adamo ha dovuto uscire dal Gan Eden e iniziare a lavorare la terra con la fatica ed Eva, la madre di tutti quanti, ha dovuto subire questa maledizione di partorire con sofferenza le altre maledizioni. Anche il serpente ha avuto la sua maledizione. Qual è stata la maledizione del serpente? La maledizione del serpente è stata quella di trovare sempre e comunque cibo per alimentarsi. La Torah dice che gli ha tolto le mani, gli ha tolto i piedi, striscerai sulla terra e mangerai quello che troverai. A far tohal kolim e hayekha, mangerai la terra tutta la tua vita. In altre parole, non dovrai preoccuparti mai del tuo sostentamento. E i nostri saggi ci chiedono, si chiedono se questa è una maledizione o una benedizione. Perché quando una persona si sveglia la mattina, e lo sappiamo benissimo, gli animali tutti i giorni devono combattere e noi che ogni tanto ci comportiamo come degli esseri umani, ogni tanto un po' meno, combattiamo, calpestiamo. Siamo disposti a tutto per portare a casa il nostro sostentamento. Invece sentiamo di questo serpente che ha portato la morte nel mondo e lui non deve preoccuparsi assolutamente del suo sostentamento perché Dio l'ha maledetto che avrà sempre qualcosa da mangiare. La domanda è una benedizione, non è una maledizione. La risposta è con un esempio che ho sentito da mio papà, Lava Shalom, di un re che ha sposato il figlio e era talmente ricco che gli ha detto, l'anno prossimo vieni da me, adesso io ti do un assegno, 50 milioni di dollari, di euro. L'anno prossimo vieni da me, te ne do un altro per l'anno a venire. Un principe ha un certo tenore di vita e quindi costa, ma per il re non era un problema. L'anno dopo si presenta al figlio davanti al padre, papà come stai, è un piacere rivederti. L'anno è passato benissimo, spero anche per te. Sono venuto a prendere l'assegno per l'anno a venire. Il padre gli dà un assegno diviso 12 e gli dice non te lo do per tutto l'anno, te lo do per ogni mese. Torna fra un mese. È tornato un mese dopo puntualmente e gli dice il padre non te lo do adesso per tutto il mese, te lo do diviso 4, verrai ogni settimana. Il figlio non capisce, torna una settimana dopo, papà come è andata la settimana tutto bene, dice sì sì ecco il tuo assegno, ma non te l'ho dato per tutta la settimana. Te l'ho dato per giorno per giorno, così domani sarai qui. E così è arrivato il giorno dopo e il re gli dice ti do un assegno la mattina per la mattina e il pomeriggio per il pomeriggio. Il figlio chiede al padre ma papà perché mi disturbi così tanto, perché non mi dai la possibilità di venire una volta all'anno come il primo anno. Dice ma tanto tu abiti vicino, che problema c'è? Dice sì ma è comunque un impegno per me venire sempre. Dice il padre al figlio, il re al principe, gli dice sono io che ho piacere di vederti. Ma se io ti do un assegno per un anno, come il primo anno, non ti sei fatto vedere un anno intero. E quindi il fatto che Dio abbia dato al serpente questa maledizione, di avere sempre cosa mangiare e non dover mai alzare gli occhi e chiedere a Shem il cibo è la più grande delle maledizioni perché Shem ha detto al serpente io con te non ho niente da condividere, non ti voglio mai più vedere. Quindi avrai dal giorno che nasci al giorno che muori tutto quello che ti serve. Che cosa impariamo da tutto questo? Che la vita terrena, la vita comoda, la vita piacevole è un rischio. Non è una prova della vicinanza di Hashem. Può essere una coricompensa, un motivo di benedizione e tutto quanto, ma può essere, può anche essere che non lo sia. Può anche essere che sia un rischio. Perché dico un rischio? Perché lo dice Moshe Rabbe non è la Torah stessa. Avevo preparato un attimino, vedo se lo trovo. Ho preparato il testo proprio di questo passuk. Eccolo qua. Così lo leggiamo insieme. Eccolo qua. Questo è un passuk della Torah che Moshe Rabbe nu. Alla fine, alla fine della Torah, pronuncia, perché è la parasha di Asino, la parasha un po' in cui Moshe Rabbe non rimprovera. Prima di benedire tutti quanti, un pochino li ha rimproverati. Che cosa dice? Lo leggo direttamente in italiano. Dice Israël, che viene chiamato da Moshe Rabbe non è talmente impinguato, impinguato vuol dire ingrassato, calcitrò, diede un calcio ad Hashem. E Moshe Rabbe non dice perché divenisti grosso, obeso e ottuso. Ottuso vuol dire che non capta più i messaggi di Hashem. E lasciò il Dio che lo fece. Ed oltraggiò la roccia sorgente, così è la traduzione letteraria del passuk, sur, sur è la roccia, che è Hashem, che è la roccia, la roccia che dà tutta la vita, che è la sorgente di tutto, che è Jeshuatò, la sua unica salvezza. Quindi che cosa sta dicendo in questo momento Moshe Rabbe nu? Che quando una persona ha tanto, ha troppo, ha molta abbondanza, non è assolutamente la prova che è vicino a Dio e che Dio è vicino a lui. Anzi, prassi normale, natura umana, che quando una persona ha troppo, la prima cosa che dimentica è chi gli ha dato tutto quanto. Inizia a pensare che è lui il fautore di tutto, che è lui l'uomo di successo, che è lui l'unico vero responsabile dei suoi successi e quindi dimentica per prima cosa, dimentica Hashem, che tutto gli ha dato. Torniamo a noi. Quindi, l'esempio che danno i nostri Chachamim, riproporvelo. Va bene, stavamo parlando della Gemara nel trattato di Nedarim. La Gemara dice così, che noi abbiamo 24 libri nel nostro Tanakh. Abbiamo i cinque libri della Torah e poi altri 19 libri di profeti. Il primo libro è quello di Ushua, che parla dell'entrata del popolo ebraico in Israele. Tutti gli altri, 18 diciamo, sono profezie. È la storia dei nostri profeti. Un attimo che tolgo l'audio. Ok. Allora, i nostri profeti sono stati inviati da Hashem. Perché ci siamo comportati bene oppure perché ci siamo comportati male? Voi cosa dite? Chiaramente hanno avuto un lavoro molto, molto difficile. Tutti loro avrebbero voluto un altro lavoro. Infatti c'è chi ha litigato con Hashem, ma anche Moshe Rabbeinu stesso. Anche Moshe Rabbeinu stesso è la prima volta che vede Dio e Dio lo manda dal popolo ebraico e dice no, 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 non io, no, manda qualcun altro, no, è tutta la storia che va avanti per sette giorni. E così tutti gli altri. Nessun profeta voleva fare questo gramo mestiere di andare a monire il popolo. Ma perché Hashem li ha mandati? Se fossimo stati tutti bravissimi, il Talmud dice, la Gemara dice, avremmo avuto i cinque libri della Torah più un solo libro che è fuori della Torah, che è il libro di Ushua, che racconta come noi siamo entrati in Ereti Israele. Invece tutti gli altri libri sono la conseguenza del nostro comportamento che è stato malvagio, delle nostre scelte sbagliate. Avremmo dovuto evitare di disturbare così tanto i nostri profeti se non fosse stato che loro hanno avuto da Hashem questo compito di venire ad ammonirci. Quindi chi ha creato le profezie? Le nostre scelte sbagliate. Le scelte sbagliate del popolo ebraico sono le nostre profezie. E quindi abbiamo tutti questi altri libri. Adesso, prima di concludere, vi faccio un piccolo esempio. Un bambino che si comporta nel modo sbagliato non è disciplinato. I genitori gli dicono non uscire fuori, fa molto freddo. Metti la sciarpa e lui non ascolta. È uscito fuori, è giocato con gli amici. Tutto il giorno è rimasto fuori, è tornato a casa la sera, ha piovuto, ha nevicato e lui era fuori nel fango. Tornato a casa, sporco, l'hanno lavato, i genitori non voleva lavarsi, l'hanno cambiato i vestiti, lui voleva andare a dormire così, era molto stanco. E poi, dopo un po' di ore, inizia a tossire, inizia ad avere un po' di freddo, un pochino raffreddato e tutto il resto. I genitori capiscono che il figlio indisciplinato si è raffreddato. Quindi si va nell'armadio delle medicine e si prendono le medicine. Tutti gli altri bambini sono già lì che dormono, c'è tutto questo rumore in casa, perché c'è questo bambino indisciplinato che ha messo in confusione tutta la casa. I genitori gli danno la medicina e lui urla non voglio la medicina, non voglio la medicina, papà sei cattivo, lo sai che la medicina è amara. I genitori lo obbligano, uno gli tiene la bocca, l'altro gli tiene le mani e gli fanno ingoiare la medicina. In quel momento il bambino che cosa pensa? I genitori mi odiano. Chiaramente è una reazione infantile, è una reazione infantile che tutti noi abbiamo ogni qualvolta ci troviamo davanti a una difficoltà della vita, perché non abbiamo assolutamente capito in che modo Hashem ci parla. Quindi i momenti duri della vita non sono negativi, altrimenti siamo uguali a questo bambino che dice cose infantili, che sbaglia e che continua a credere che i genitori hanno finito di amarlo. Ed esattamente come i momenti duri della vita non sono negativi, quelli belli non sono una garanzia. Anzi, i momenti belli della vita non vogliono assolutamente dire che qualcosa di bello sta succedendo. C'è una famosa storia consentita da un rav di un toro che poverino aveva questo questo mestiere di fare da aratro, quindi di trainare l'aratro ed è un lavoro per anche per i tori molto difficile. Oggi ci sono i tori, una volta si usavano i tori. Sono tori da traino. E sudava, e faticava. E il contadino li metteva, non so come si dice in italiano, questa cosa che si mette in bocca al toro per trainarlo. e c'era lì la mucca che mangiava l'erba. Dice, guarda io come sono fortunata e guarda te come sei sfortunato. Io mangio quello che voglio. Il padrone mi dà sempre del fieno fresco, mi dà sempre quello che mi serve. Sono libera, faccio quello che voglio. E il toro gli dice, ma io so che domani sarò ancora qui. E io non so se domani tu sarai ancora qui. E l'esempio è che effettivamente era così. Il giorno dopo il toro era lì perché il padrone aveva bisogno del toro, ma la mucca non c'era più. Perché la carne della mucca è molto più tenera della carne di un toro da traino, perché è troppo dura, nessuno la vuole mangiare, nessuno la vuole comprare. Quindi i tori da lavoro vengono lasciati tanti anni a lavorare. Mentre la mucca meno si muove, meglio è. Quindi avere tutto quello che si vuole e essere viziati da Hashem non è assolutamente una garanzia di amore. Non è assolutamente una garanzia. Perché come dice giustamente la Mishnah nel Pirkeavot, è Rabbi Akiva che dice questo nel terzo capitolo, verso la fine del terzo capitolo del Pirkeavot. Dice che Hashem ti dà tutto. C'è una banca di prestiti e tu puoi venire ogni giorno e chiedere in prestito tutto quello che vuoi. Mi dai un giorno di vita? Prendi un giorno di vita. Mi dai quello che mi serve, una bella macchina? Prendi una bella macchina. Mi dai un vestito nuovo? Prendi un vestito nuovo. Tutto quello che vuoi c'è la banca. Però la banca è una banca di prestiti, non è una banca di regali. E quindi Hashem ci dà tutto quello che noi abbiamo bisogno per fare quello che lui ci chiede a noi di fare. Altrimenti tutta questa viziataggine. Dice Rabbi Akiva c'è la mano che scrive, c'è un banco dei penni, c'è il taccuino che scrive giorno per giorno. Lui ha preso oggi questo, ha preso anche questo, ha preso anche questo. Il giorno dopo cosa ha preso? Ha preso questo. E poi alla fine si fanno i conti. Che cosa hai fatto con tutto quello che ti abbiamo dato? L'hai usato per quello che ti ho chiesto? Benissimo. Allora sarai anche premiato come a Kadosh Bar Khus a premiare. Altrimenti ai ai ai. Perché stare bene è una benedizione. Ma quando uno sta bene senza mai fare niente, senza mai impegnarsi, senza mai faticare, senza mai sudare un attimo e sta sempre bene, deve farsi due domande. Quindi se ci sono momenti difficili, momenti di preoccupazione, sono momenti belli, sono momenti felici della vita. Perché è un messaggio che arriva direttamente da Hashem. Mi sto occupando di te. Ti sto mandando la medicina. Domani sarai sano. Ma io non voglio la medicina. È amara. Nessuno vuole la medicina. Però ogni tanto Kadosh Bar Khus ce la dà questa medicina e noi non dobbiamo essere infantili a credere che Hashem non ci voglia bene. Quindi in questo mondo non esiste mangiare a sbafo. A ognuno arriva il momento in cui gli si chiede di pagare il conto. Questo vuol dire imparare il linguaggio di Hashem. Imparare il linguaggio di Hashem ci insegna ad abituarci anche a quello che sarà il mondo a venire, i giorni del Mashiach, come scrive chiaramente il Tania in questo capitolo. Mi sa che oggi finiamo un po' prima perché se non leggo il testo con voi non ha molto senso. Finisco soltanto magari con una settimana prossima. Vediamo di recuperare. Parlerò forse un po' più veloce. Questa settimana voglio concludere con quello che è stato l'incontro di Yosef con i fratelli, che è esattamente quello che stiamo parlando adesso. Yosef si è comportato in modo molto particolare con i fratelli. Un pochino ha giocato con loro, ma non ha mai pensato di fare loro del male. Voleva semplicemente capire se i fratelli erano pentiti della vendita di Yosef. Li ha messi alla prova. Ha fatto uguale uguale con Binyamin, ha forzato loro di portare Binyamin in Egitto e ha fatto in modo che Binyamin resti in Egitto in prigione. E lì si presenta Yehuda e Yehuda dice io da qui non me ne vado senza Binyamin. Piuttosto mi prendi a me o piuttosto facciamo la guerra perché io senza già uno ne abbiamo perso, già uno è finita male, di cui siamo pentiti. E Yosef gli dice e come faccio a sapere che siete pentiti? Dice se potessimo ritrovarlo faremmo di tutto per riportarlo al padre. Allora Yosef dice ai fratelli, dice io qua sono il re, io qua comando tutto, tutto è sotto il mio controllo. Se io vi porto Yosef, voi lo portate di nuovo al padre? Dicono i fratelli certamente. Dice allora è facilissimo. Allora io dico a Yosef di venire qua in questa stanza. E lui, il Midrash racconta che diceva così, Yosef Binyakov, Yosef Iludiakov, presentati ai tuoi fratelli. E i fratelli in quel momento hanno iniziato a tremare. Si guardavano, sono andati a cercare tutti gli angoli della casa, ma non trovavano Yosef. E quindi tornano dal re, gli dicono ma che cosa stai dicendo? Hai detto che tu comandi, hai detto che tu controlli tutto e se tutto è sotto il tuo controllo e tu hai ordinato al nostro fratello di presentarsi e lui non si è presentato, che cosa controlli? Dici no, io controllo tutto. Sapete perché controllo tutto? Perché come dice la Torah Anì Yosef Echichem. Io sono Yosef il vostro fratello. Che cosa dice la Torah? Che i fratelli non hanno potuto rispondere. Si sono vergognati così tanto che c'è addirittura il Midrash che dice che sono morti, non morti di vergogna, ma che l'anima per un attimo ha lasciato il corpo. Talmente profonda era la vergogna di presentarsi davanti al fratello. Il Talmud dice che Rabbi Eliezer, quando leggeva questo versetto, piangeva. Piangeva e diceva così Se dei fratelli grandi si sentono vergognati davanti a un fratello piccolo, fino al punto da morire di vergogna, e il fratello piccolo fino a quel momento non aveva dato a loro quello che poi avrebbe dato a loro. Noi che abbiamo preso in prestito da Hashem tutto. Tutta la nostra vita è stata presa in prestito da Hashem e sappiamo benissimo che abbiamo usato questo prestito nel modo sbagliato. Non siamo stati coerenti e siamo stati truffaldini. Abbiamo usato la nostra salute, abbiamo usato il nostro corpo, abbiamo usato le nostre proprietà, abbiamo usato tutto quello che ci è stato dato per i nostri comodi, per i nostri piaceri. Come se i fratelli sono morti di vergogna, noi come ci presenteremo? E tutte le volte che Rabbi Eliezer leggeva questa frase, piangeva e diceva quando sarà il momento in cui dovremo pagare il conto, con che faccia, con che viso ci presenteremo? Cosa ha fatto Yosef? Yosef ha fatto di tutto per abituare loro a sapere che Yosef è ancora vivo. E l'ha fatto piano piano, ma quanto piano poteva farlo? Comunque lo spavento era troppo grande, comunque il colpo era troppo forte. Il Tania ci dice quando arriverà Mashiach ci sarà la rivelazione di coloro che amavano Hashem e di coloro che prendevano da Hashem. Chi erano quelli che davano? Sono quelli che Hashem amava. Chi sono quelli che Hashem amava? Quelli che sapevano ricevere tutto il bene e quello che superficialmente potrebbe sembrare il non bene con positività. Come la storia che ho raccontato all'inizio, Ravi Tzhak Kaduri, gli vengono a raccontare che è stato insultato, umiliato, svergognato alla radio pubblica di tutta Israele e lui rideva. Era felice perché lui è quello che ama Hashem. Se Hashem vuole questo per me, per me va benissimo. Era felicissimo. E lui parla già il linguaggio di Hashem. Quindi quando arriva Mashiach per Ravi Tzhak Kaduri non c'è niente di cui sbilanciarsi. È tutto già per lui pronto. Mentre per noi che siamo delle persone che siamo un po' più piccoli di lui, siamo a un livello ancora più basso, dobbiamo affrettarci ad imparare qual è il linguaggio di Hashem, che non esiste male, che non esiste negatività, che tutto è bene. Dobbiamo semplicemente abituarci a imparare a parlare la sua lingua. Io direi che senza video e senza testo per oggi va bene così. Ci vediamo Be'ezrat Hashem la settimana prossima con magari un tecnico che ci accompagna per capire qual è stato l'errore e per avere la possibilità di anche vederci e anche studiare dal testo.